ciao a tutti ragazzi siamo tornati su model combat 5 pronti per un'altra partitozza col predone e questa volta abbiamo applicato un tromboncino aggiuntivo e allora questa volta è il secondo tromboncino il primo era un silenziatore che non ho voluto provare il secondo praticamente aumenta notevolmente la nostra gittata grazie bello mi hai salvato il cucullo uccisione è bello uccisione esplosiva vendetta overpower è arrivato il verpower ragazzi è il momento di fare sul serio è arrivato il verpower all'arembaggio ragazzi è arrivato pure la vice è arrivato all'occhio letale l'occhio letale eccola in fondo occhio letale ti venga a prendere non ti preoccupare oh oh overpower vieni fuori bello ti ho tolto un po di energia eh elicottero di ricorrezione utilizziamo subito ragazzi di andare a beccare quello con l'occhio letale ragazzi ciao bella ciccio sono molto contento che sei caduto per terra lo sai ok 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 Attenzione ragazzi, è lì, è lì Assistenza, bello E' uno dei miei Attenzione, lo so che sei ancora da qualche parte qui, imboscato A fare il signor cecchino No, vabbè Ti sei divertito, eh No, vabbè No, per poco No 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 Gli ho ammazzato Bello col ver power 10 uccisioni 7 morti comunque Per pochissimo 11.8 ragazzi Siamo ancora in attivo Partita completata Ok Devo dire ragazzi Il predone spacca C'è C'è da dire C'è da dire altro Arma di livello 1 Con il secondo tromboncino C'è Fai delle robe assurde Veramente Non è tra i miei preferiti C'è a me piace mirare Sinceramente ragazzi Non è che mi piace Con sto mirino Così e basta Senza dover mirare Però Beh Comunque mirare anche quello Giustamente Avendo due pistole Non è che potevamo Avere trick trick Una roba del genere Comunque ragazzi Adesso ci facciamo Un'altra partita Spero di capitare Sulle strade Ma siamo nuovamente In vantaggio E cominciamo La prossima partita Si parte Alla rembaggio Aiaiaiai 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 Volete fare sul serio Allora eh Attento bello Non so perché ragazzi Ma ultimamente Crash al gioco Concludiamo qui La partitozza ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti